Oh ragazzi, stiamo per entrare all'Expo, perché vi aspettate da questo evento? Expo Milano 2015, il grande evento sull'alimentazione sta arrivando. Sarà un'occasione unica al mondo, per tutti noi. Boh, per me deve essere una filata. Per me cercheranno di raccontarci sempre le solite c***e. Sapete come la penso su queste cose. Sì, ma che figata la roba della vita. Sì, mi sembrava chissà che, ma questo Expo non è che mi abbia lasciato un po' molto. Vi dico come la penso. Il parco giochi per le multinazionali, un giro di soldi impressionanti. Il McDonald's dovrebbe nutrire il pianeta. Che c***e vogliono nutrire con quella c***a? Cioè, è come Gardner senza le attrazioni, vi rendete conto? Colpisce l'andolo della vita alla tecnologia? Eh, ragione. Cosa ci lascia? C'è la funzione. Grandissima c***a sto Expo. Grazie. Grazie.